Per far girare l'economia in tempo di coronavirus occorre un po' di creatività. Non è mancata la fantasia al Circo Crone di Monaco di Baviera che per far fronte alla chiusura forzata si è messo a vendere escrementi di leone. E sì, avete proprio capito bene, le feci dell'animale vengono vendute in barattoline di marmellata a 5 euro al pezzo e si comprano in questo pittoresco chiosco di cartapesta. La merce rarissima sta andando a ruba, sono già stati venduti 2000 esemplari, ma che se ne faranno? Sembra che il prodotto dall'odore furtissimo sia ottimo per tenere lontani gatti dalle aiuole e martore dalle auto. Volete provarlo?